Gli argomenti che vogliamo toccare ancora una volta sono quei concetti che stanno alla base della chirurgia ossa recessiva, alla base anche della sua rational e soprattutto concentrarsi nel condividere assieme a voi quelli che sono ancora una volta i passi salienti, gli step by step utilizzando dei video tutorial in modo tale da rendere questa nostra presentazione la più didattica possibile.